Allora io ovviamente avendo nella mia precedente vita fatto il prefetto di Milano, quindi quando ho sentito il sintaco di Corsico, la realtà è che effettivamente la mafia non ha confini. Noi dicevamo prima anni fa che la mafia era più che altro limitata in alcune zone del territorio, cosa che non è assolutamente così, voglio ricordare che da prefetto di Milano io ho sciolto, chiuso per mafia una farmacia proprio per il codice antimafia, uno dei casi, credo che forse uno dei pochissimi casi, quindi voglio dire ed era Milano proprio, ricordiamo che ci sono territori tipo Buccinasco, tipo Corsico come richiamato dal sindaco, ma tanti altri ne potrei dire perché la mafia, l'andrangheta ormai si è impadronita di alcuni territori anche se l'attività delle forze di polizia, l'attività della magistratura fa sì che si cerchi in tutti i modi di limitare i danni e soprattutto quello che io penso fondamentale è la cultura dell'antimafia, quindi quello che si diceva prima, cioè il discorso della cultura dell'antimafia, da qui dobbiamo partire, dai giovani, dalle scuole, dal teatro, queste forme alternative sono quelle che poi penetrano di più nei ragazzi che non vedono una lezione scolastica, classica, ma è un modo di partecipazione ulteriore. Cioè non è il racconto dei buoni sentimenti che bisogna avere, ma è il racconto delle storie vere messe in scena che effettivamente agitano le coscienze dei ragazzi che sono disponibili a recepire un'emozione nuova se rappresentata con linguaggi che loro riconoscono. Quello è assolutamente vero, quindi noi dobbiamo molto investire nella scuola, nei nostri giovani, di cui purtroppo si parla poco e io ritengo che occorra investire di più su di loro perché loro rappresentano il nostro futuro e secondo me dovrebbe essere una priorità. Infatti nelle storie di questo spettacolo si vede un doppio livello di intervento della mafia, il primo con un esercizio di controllo diretto, violento, ostentato del territorio attraverso i giovanissimi appunto disposti a tutto per affermare il loro potere e lì bisogna proporgli un'alternativa. Ma l'altro livello di cui parlava anche lei è proprio quello che in momenti di crisi come questo poi è ancora più forte e più evidente è quello dei professionisti di alto livello, commercialisti, avvocati, notai, che si inseriscono attivamente nell'economia legale del paese e fanno concorrenza alla banca che ha le buone intenzioni, come dicevamo prima. Perché? Perché sono soldi pronti subito. No, è questo? Come si reagisce? Questo è sicuramente vero e questa crisi pandemica ha certamente acuito quelli che sono problemi che noi dai nostri punti di vista, ripeto c'è qua il procuratore Derao, ovviamente ognuno per la parte di competenza ma sono noi aspetti che valutiamo con molta attenzione. Certo in un momento in cui le aziende hanno avuto difficoltà economiche, le famiglie hanno avuto difficoltà e allora è facile da parte delle associazioni, la mafia, l'Andrangheta, di intervenire come un welfare alternativo. A quel punto devo anche dire che purtroppo la mafia non si presenta più come una volta, come diceva lei poc'anzi, ha un modo subdolo di intervenire facendo vedere come se fosse un aiuto che viene dato alla famiglia senza alcun interesse, senza interessi. Invece gli interessi ci sono e sono interessi altissimi in termini economici, in termini morali, in termini di davvero di da parte della mafia vuol dire proprio catturare quello che è la psicologia di ogni singolo e quindi si va internamente in maniera ancora più profonda ed è questa io trovo la gravità della situazione, cioè non rendersi conto di entrare in un circuito da cui poi è difficile uscire. Ecco, infatti, procuratore Caffiero De Rao, a parte che lei era a Vienna quando questi ragazzi hanno fatto questo spettacolo nella sede dell'ONU e c'erano tutti i paesi che l'ONU rappresenta, che emozione ha avuto in quel momento? Dottore, fu una grande emozione la partecipazione con questi ragazzi che sentivano dalla nostra voce persone che vivevano anche in ambienti dove le mafie ancora continuano a controllare i territori e partecipavano con emozione e guardavano con emozione allo spettacolo che veniva loro presentato. Però vorrei aggiungere una cosa qui, poiché nei filmati c'era Antonio Bartuccio ed ero procuratore della Repubblica a Reggio Calabria quando venne eseguita quella ordinanza di custodia cautelare, devo sottolineare come proprio con Antonio Bartuccio, subito dopo l'esecuzione ci fu un incontro e chiesi a Bartuccio se fosse voluto restare nel paesino in cui viveva, laddove i Crea dominavano o se invece per lui poteva essere meglio andare fuori dalla Calabria. E lui mi disse, guardi dottore, io vorrei restare. In me ci fu una gioia enorme e gli dissi, lei deve restare perché se resta stia certo che lo Stato le sarà vicino. Le sarà vicino la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le sarò vicino io, qualunque cosa di cui abbia bisogno le staremo sempre al fianco. Ed è quello che è capitato. Non solo è capitato questo, ma in più è cominciato un nuovo modo di gestire i testimoni di giustizia e anche i collaboratori a volte, farli restare nel territorio perché non sono loro che devono andare via. Loro non scappano, sono gli altri che devono scappare. La filosofia che appunto ha espresso è proprio la nostra filosofia. Tanto che la legge poi è cambiata, che consente oggi ai testimoni di giustizia di restare nel loro territorio. Allora non era così. E diciamo che quelli furono i primi esempi di come si potesse fare, effettivamente dare piena protezione, ma al tempo stesso lasciare questi esempi di legalità nel territorio e dimostrare che lo Stato era capace di proteggerli. Questo è stato importante. Molto importante perché è un cambio di paradigma proprio. E così è stato anche per alcuni imprenditori, alcuni che avevano delle aziende sconfinate, che vivevano lontano e tornavano poi in questi territori calabresi soltanto quando c'era il raccolto o qualche altra attività da compiere. E anche con loro è cominciato questo nuovo corso. Sono fatti rientrare proprio per consentire di poter affermare la forza dello Stato rispetto alla criminalità e quindi la capacità di proteggere queste persone. Le quali non sono potute, non sono dovute più andare lontano. Io ho la fortuna in questo momento di avere qui due autorità, somme diciamo, nel settore. Mi piace immaginare, ne parlava prima il Ministro, per le rispettive competenze, ha detto giustamente, ma io vorrei sentire dove si contaminano queste rispettive competenze. Cioè mi piacerebbe capire che tipo di collaborazione in questo momento così forte di incidenza del Covid e quindi di quello che abbiamo detto, delle infiltrazioni, che tipo di collaborazione diversa, inusuale, parlavamo delle regole, no? Ecco, come state cambiando le regole per rendere possibile questa collaborazione? Se sì, e se sì, dove, come? Allora, volevo un attimo riagganciarmi a quello che diceva il Procuratore Derao per quanto riguarda i testimoni di giustizia e anche in relazione al filmato, cioè il desiderio di non lasciare il luogo di origine. Questo è davvero importante perché vuol dire ridare dignità a una persona, perché quando poi abbandonano la propria casa, il proprio territorio, casomai con un cambio di cognome, si smarriscono perché coinvolge non soltanto se stessi, ma tutta la famiglia, il che vuol dire essere un'altra persona pur essendo sempre se stessi. E allora davvero il rimanere nel proprio territorio, con la propria personalità, con la propria vita e con le forze di polizia che hanno... Cioè un modo di lottare veramente diverso. Insieme, a fianco, c'è questo il vero segnale della presenza dello Stato nel territorio. Che decide di combattere. Ecco, nel senso di dire tu continua la tua vita, a te ci pensiamo noi. Cioè secondo me questo è veramente un momento fondamentale. Ecco e lì c'è in concreto un modo di collaborare. E' in concreto, che fate? Mi parlate, mi telefonate? Concretamente, innanzitutto nella Commissione Pentiti ci sono anche dei magistrati. No, io chiedo perché sono i giornali, voglio sapere. Quindi le decisioni poi vengono prese insieme. A parte che poi regolarmente quando ci stanno delle problematiche di particolare rilevanza, non certo le singole indagini perché ognuno quello è ovvio, ma dei sistemi di collaborazione, noi l'abbiamo sempre trovati e non soltanto perché siamo vicini come siamo amici da tempo. Sì, sì, non solo per una sensibilità comune. Diciamo che l'amicizia viene a seguito dei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto, quindi negli anni. Teniamo conto che nelle prefetture, per esempio, quando ci sta, ecco il procuratore diceva che era procuratore a Reggio Calabria. E allora quando ci sta, per esempio, lo scioglimento di un comune per mafia su un territorio, si fa sempre il comitato provinciale, ordine e sicurezza pubblica con la presenza del procuratore, perché si decide insieme e si vedono insieme quelli che sono gli aspetti critici. Questo è uno degli esempi, ma ce ne potrebbero essere tanti altri. Come affrontate, non so se singolarmente o insieme, come affrontate questo boom di crimini informatici di cui stiamo vedendo proprio degli esempi anche quasi elementari, l'aiuto nei compiti, nelle interrogazioni a scuola, insomma è un sistema che è penetrato proprio in profondità o l'utilizzo del dark web o il contrasto, ancora più importante, alle criptovalute che saranno i veri problemi del futuro. Ecco, come vi state attrezzando in questa direzione? Allora, noi abbiamo un osservatorio che siede presso la polizia criminale su tutti quelli che sono i crimini, anche informatici. Abbiamo dato, ed è davvero di prossima istituzione, proprio perché durante il Covid i crimini online sono sicuramente aumentati, sono esplosi, perché mentre abbiamo visto che per quanto riguarda i reati, diciamo, la criminalità, furti, rapine, abbiamo avuto un meno 20%, abbiamo avuto invece un aumento davvero notevolissimo, è stato l'unico reato che ha visto un'impennata durante il periodo, diciamo, di chiusura. E d'altra parte, se noi pensiamo che noi ci siamo chiusi in casa, la stessa cosa ha fatto la criminalità organizzata per raggiungere il maggior numero possibile di utenti, ha fatto ricorso a uno strumento che è quello che utilizzavamo noi da casa per vivere, per lavorare, gli studenti con le lezioni a distanza, arrivando fino a livello, tant'è vero che abbiamo avuto anche purtroppo quell'orrendo crimine anche di pedo-pernografia, abbiamo avuto poi soprattutto, ecco quello che dicevamo, su quelle che sono anche delle operazioni finanziarie non legittime che per fortuna tramite anche le segnalazioni all'unità UIF, all'unità proprio di informazioni finanziarie, pensi che l'anno scorso abbiamo avuto 67.000 denunce di segnalazioni di operazioni di questo genere. Quindi l'attività che si fa è un'attività congiuntamente con anche, ecco questa, se vogliamo parlare anche di collaborazione, anche questa è un'attività che facciamo in collaborazione con le forze di polizia e ovviamente gli attori principali sono i magistrati, la magistratura insieme a noi e quindi diciamo che è una forma di collaborazione che assolutamente serve perché consideriamo l'esempio delle mascherine, consideriamo l'esempio anche dei tamponi perché c'è tutta una parte di business che riguarda proprio la pandemia e quindi anche su questo va molto, diciamo... Ecco, da questo punto di vista proprio che toccava il ministro del, come dire, della malavita e del malaffare legato al Covid, dal vostro punto di vista che cosa vedete e che cosa sentite che è il punto da combattere per primo? Dottore, se mi consente, torno un attimo anche indietro per quanto riguarda una cooperazione interistituzionale. Ah, infatti, mi interessa. Lei prima chiedeva e già il ministro ha risposto... No, no, ma è importante che... Volevo che si capisse, innanzitutto come a livello territoriale, quindi provinciale, le prefetture. Le prefetture operano con le procure della Repubblica in una sinergia assoluta. È evidente però che operano su binari paralleli la repressione, la procura della Repubblica e invece la prevenzione, la prefettura. E come avviene questo? Nel tavolo cui faceva riferimento poc'anzi il ministro, è un tavolo nel quale siede il procuratore della Repubblica, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine, questore, quindi comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza. Cosa avviene in quel tavolo? Che è evidente che la prefettura ha delle esigenze, quelle di comprendere il territorio come si esprime sotto il profilo dell'impresa collusa. Sotto questo profilo è necessario che il prefetto attivi le interdittive antimafie, che quindi si riesca a escludere dal circuito imprenditoriale coloro che sono contigui o sospettati di essere mafiosi. E quindi in quel momento c'è una condivisione di informazioni che possono essere utilizzate. Nel senso che una parte viene coperta dal segreto e resta nell'ambito delle indagini. Un'altra parte invece, che pur rientra nel quadro indiziario di cui poi farà uso la Procura della Repubblica con richieste di misura cautelare, con sequestri preventivi eccetera, quella parte che è ostensibile come i controlli su strada, come eventuali perquisizioni, come altro, può essere già utilizzato dai prefetti. E quindi si mettono a disposizione dei prefetti tutto questo quadro che poi sarà utile per le interdittive. Nello stesso momento, poi, laddove vi è un'urgenza assoluta, le procure sollecitano i resiti dell'indagine per poter intervenire anche con fermi di polizia giudiziaria, oltre che un sequestri sul territorio. Ecco, ma le faccio una domanda che può sembrare provocatoria, ma è nel tema 2040, pensare 2040. E pensare, come ha detto lei prima, facendo l'esempio del sindaco, che cambiando la legge si è cambiato anche il modo di combattere, perché si è detto lo Stato no, vi tiene qua e vi difende qua e sarete vivi qua, che fa una bella differenza perché non si deve diventare un'altra persona o un'altra famiglia. Ecco, se pensiamo al 2040, lei che cosa sente che è necessario fare di più e di diverso? Innanzitutto io credo che, poiché la cooperazione è ciò che è fondamentale per un contrasto effettivo alle mafie, e per riportare i territori alla legalità, le banche dati sono fondamentali. E a cominciare le banche dati sugli appalti... Quindi mettere in comune intanto tutti i dati. Mettere in comune tutte le conoscenze e fare in modo di poter intervenire e utilizzarle secondo le rispettive competenze. Questo consentirebbe di intervenire con immediatezza. E devo dirle che la Direzione Nazionale Antimafia e del Terrorismo ha una banca dati che è probabilmente la più grande banca dati che esista. È una banca dati con milioni di elementi conoscitivi che riconducono a tutte le indagini che sono state fatte in materia di mafia dal 1992. E lei, Ministro, usa già questa banca dati? No, noi usiamo la nostra banca dati. Cioè ognuno è geloso della sua banca dati? No, no, non è geloso assolutamente perché tra di noi ci sto ovviamente... Non sto scherzando, ma perché volevo capire com'è il passo avanti da fare. Allora, il problema effettivamente, come diceva il procuratore Derao, esiste nel senso, le dico che a livello per esempio internazionale, io vado spesso a vertici internazionali, a Bruxelles, parlando con i ministri dell'interno, anche europei. E allora c'è una gelosia delle proprie informazioni. Eh, infatti, quello volevo dire. Per esempio, noi abbiamo uno strumento che ci ha apprezzato da tutti, anche all'estero, ed è il Comitato di Analisi Strategico Antiterrorismo. E là sono dei dati che noi abbiamo, che poi cerchiamo anche di condividere con gli altri. Noi vorremmo che ci fosse a livello europeo un organismo di questo genere. E l'abbiamo detto anche più volte, ma al dunque non si riesce a fare per le gelosie che ci sono anche a livello internazionale. Quindi io credo, quando parliamo da qua al 2040... Speriamo di superare almeno questo. Spero che ci saranno, ecco, quello che noi diciamo, i giovani di oggi, che dobbiamo prepararli al futuro, perché noi non ci saremo più, ma ci saranno i giovani che dovranno nascere e crescere con questa cultura della condivisione. Esatto. Perché, e allora probabilmente sembrerà normale e si dirà, ma come mai non l'avevano fatto prima? Eh, perché c'era quella resistenza di cui parlavamo e quelle gelosie. E chi sono i più gelosi in Europa? I francesi? No, guardi, quando si tratta di tenere, diciamo, i propri dati riservati, un poco tutti, è difficile, vero? È così, è così anche dal punto di vista suo. Devo dirle che quando c'è la necessità di condividere, si è pronti tutti a condividere, anche i francesi. E faccio due esempi. In uno, l'attentato che c'è stato in Francia nell'ottobre del 2020. Un battaglia. Sì. E in quell'ambito il procuratore nazionale francese ha chiesto alla Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo di conoscere come questo soggetto era arrivato in Francia. E nel giro di due ore, già gli dicemmo come era arrivato. Nel giro di sei ore, dicemmo in quale barchino era e con quante persone era presente. E nel giro di ventiquattro ore, gli dicemmo quale percorso aveva fatto per arrivare in Francia. Cioè, da Agrigento era stato portato a Bari, da Bari poi era stato a Palermo dove aveva dormito una notte, da Palermo poi era andato a Roma dove aveva incontrato un amico che faceva il pizzaiolo. Da Roma poi si era allontanato insieme a un altro tizio. Cioè, gli abbiamo detto tutto quello che aveva fatto da quando si è rimbarcato fino a quando non è arrivato in Francia e le persone che stavano con lui. E peraltro con lui in Francia c'era anche altro soggetto che già era stato attenzionato. Altrettanto abbiamo fatto per l'Austria. Quando a Vienna c'è stato l'attentato a novembre, ugualmente il procuratore si è rivolto a noi e noi naturalmente con la rete dei procuratori distrettuali, è chiaro, immediatamente contattando i procuratori distrettuali e utilizzando anche la rete del Ministero dell'Interno. Perché attraverso quella rete che monitora le immigrazioni, riuscimmo a sapere quindi tutti coloro che erano stati con costoro. Addirittura all'Austria segnalammo anche alcune operazioni sospette, quindi alcune transazioni di cui era stato protagonista l'attentatore di Vienna e che Vienna non conosceva. Ieri dicemmo noi, cioè dall'Italia, noi gli ricostruimmo una serie di operazioni e quindi di contatti. L'ufficio che ho l'onore di dirigere insieme agli altri procuratori. Ma per dirle, l'efficienza del sistema italiano è un'efficienza che è un modello. Volevo chiedere a proposito dell'efficienza che è un modello. È un modello anche perché noi siamo, da questo punto di vista, siamo purtroppo molto più avanti nell'esperienza. Perché con l'antimafia e con l'antiterrorismo probabilmente abbiamo maturato delle competenze nei vostri rispettivi ambiti che ci mettono su un piano diverso e allertano in un modo più sensibile, si allertano in un modo più sensibile rispetto alle esigenze. O sbaglio? Sicuramente noi siamo attrezzati perché abbiamo avuto anni bui anche in Italia e quindi che abbiamo superato grazie alla sinergia assoluta. Quando io parlo, quindi confermo pienamente quello che ha detto ora il procuratore Derao per quanto riguarda la collaborazione che esiste. Quello che intendevo dire è che quando noi facciamo il discorso della Banca Unica Europea è lì che c'è la difficoltà nel dare le proprie informazioni. Ma sicuramente noi l'abbiamo visto di recente quando c'è stato purtroppo quel passaggio di un migrante che era arrivato in Italia proprio di recente ed è andato in Francia e ha ucciso tre persone e là effettivamente abbiamo immediatamente fatto tutto il percorso perché ovviamente quando scendono dai barchini, dai barconi comunque sia loro vengono tutti quanti censiti, schedati, si fanno i controlli di sicurezza. In questo caso, che dico io, purtroppo era un tunisino che non era stato segnalato dalle autorità tunisine di partenza come pericoloso. Ecco, quindi questa fu la questione per cui non fu poi messo, diciamo... Ecco, c'è una cosa che volevo chiedere al procuratore. Lei, appunto, l'abbiamo detto, stava a Vienna per tornare a una cosa che è legata al palcone scenico della legalità come strumento, in qualche modo, di crescita di coscienza. Lei era lì, ha visto, era presente. Quella è una strada che va implementata? Sicuramente è una strada che va implementata. Lei pensi anche che nel 2018, nell'ottobre del 2018, la convenzione di Palermo ha raggiunto finalmente quella che era la revisione della convenzione che non era ancora stata attuata da quando è stata sottoscritta perché mancava un meccanismo di controllo ed è stato approvato proprio nell'ottobre 2018. Da quel momento è iniziata ad essere portata avanti un'azione di verifica per comprendere se i 190 paesi aderenti che dovrebbero seguire almeno quelle regole fondamentali che sono contenute nella convenzione effettivamente con la loro legislazione e con i loro apparati si sono adeguati. Ed è un percorso molto importante e questo nel mondo. E lo vede crescere? Cresce e anche, devo dire, in modo molto consistente. Tanto che abbiamo rapporti con i paesi del Centro America che si occupano della gestione del traffico di stupefacenti e con loro ci muoviamo addirittura con telefonate, con messaggi. Insomma è un lavoro continuo. È un lavoro continuo ma di grande collaborazione. Una collaborazione che non è più come una volta la cooperazione formale. Io mando l'arrogatorio e tu mi rispondi dopo due anni. Ecco, ma facciamolo raccontare questo. Perché non promuovete il racconto di questo? Noi viviamo nella società dell'immagine. Ok? Siamo immersi nella società dell'immagine. I modelli culturali di trasmissione dei valori sono quelli che ci vengono raccontati dalle grandi storie televisive. Non c'è niente da fare, è così. È questo quello che capita. Bisognerebbe attrezzarsi in questa direzione. Lo dico perché se uno guarda le grandi serie di Sky, di Netflix, per esempio, scopre che sono talmente ben fatte dal punto di vista della sceneggiatura che è chiaro che uomini vostri sono dietro quelle sceneggiature o sono addirittura gli sceneggiatori. Cioè costruire una sensibilità specifica per il racconto che poi è la nuova letteratura. Stiamo parlando di conoscenza. La nuova letteratura è quella. Uno impara di più del mondo islamico vedendo certe serie di Netflix sul terrorismo islamico fatte dagli islamici che su mille libri o mille inchieste giornalistiche. Cioè c'è proprio un salto di qualità nello strumento della conoscenza. Lo strumento della conoscenza nel quale siamo immersi è il racconto televisivo seriale. Il racconto televisivo seriale. Non l'episodio. Sì, l'episodio va benissimo. Sempre positivo se offre modelli positivi. Ma quello seriale è quello che realmente entra, incide. Io so di più della cultura turca avendo visto le serie che fa Netflix che non avendo letto, studiato o anche viaggiato. È vero o no? Eh, allora, è che siamo scemi? No, non siamo scemi. Facciamolo anche noi. Cioè, proprio ognuno, ognuno rispetti con le rispettive competenze ma fare dei gruppi di persone che capiscono che quella è la nuova letteratura e che quindi bisogna saper scrivere con quella lingua. perché se no vince la cultura di Gomorra vince la cultura di questo genere che ha grande presa sui giovani perché gli eroi positivi come Montalbano o qualche giudice anche donna o qualche poliziotto sì, sono singoli oppure sono eroi che muoiono che danno la vita. No? Allora, bisogna essere bisogna essere vocati alla morte per essere un esempio positivo. Meglio di no. Meglio saper raccontare la sostanza di questa vita ma con gli strumenti propri della cultura di oggi. Non so se siete d'accordo. Io dico che è un po' ingeneroso perché forse un po' di comunicazione ulteriore andrebbe fatta ma per uscire facendo comprendere quelle che sono le difficoltà che si trovano ma che comunque sia un'attività incessante esiste. Ma in generosa che senso? In generosa dice non facciamo comprendere effettivamente quello che si fa. No, io dico il linguaggio nuovo è il linguaggio Allora, è quello voglio dire non è che non si fa comprendere noi purtroppo abbiamo una cultura che è la cultura del fare tante volte No, no, benissimo però è anche un limite ecco, ecco questo stavo dicendo abbiamo una cultura del fare di operare di fare i fatti di concludere operazioni di fare interventi mirati per esempio penso al lavoro che facciamo sui territori e probabilmente quello le devo dare ragione che però Netflix i film sono sempre dei film quindi certamente sono dei film che hanno dietro sempre di più delle persone dico come voi che la sanno veramente che aiutano gli sceneggiatori a scrivere delle cose vere cioè come il teatro della legalità è un teatro costruito su storie vere cioè tutto quello che loro raccontano viene prima fatto viene fatto un censimento molto grande quello che dicevi da qua al abbiamo detto tra 40 anni ecco allora questo certamente non sarà 40 anni perché l'obiettivo 2040 mi pare un po' un po' troppo però sicuramente anche noi anche noi adesso abbiamo una maggiore attenzione anche noi oggi rispetto a quello che era ieri perché il primo passo è più difficile e so che dobbiamo crescere ancora su questo punto però voglio dire perché soprattutto c'è questa tendenza al fare e tante volte anche a non uscire preventivamente non uscire preventivamente con notizie che poi casomai possono determinare durante delle indagini dei problemi però io sto dicendo una cosa leggermente diversa questo discorso che fa lei è chiarissimo e probabilmente anzi bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione perché se no si finisce con le maxi retate a vuoto dove poi dopo due settimane su 600 300 non c'entravano niente e questo lo capisco benissimo io sto dicendo una cosa diversa raccontarlo in maniera diversa sto dicendo che non devi raccontare quella cosa lì ma quel problema lì che è legato a mille altre storie se uno specializza in qualche modo un gruppo e che capisce che la nuova letteratura è quella è quella lì è la nuova letteratura allora in un certo senso anticipa quei problemi quei problemi sono problemi che ci sono e forse non ci saranno più o ci saranno sempre ma intanto noi siamo capaci di raccontarvi un mondo con gli strumenti del nuovo mondo che è importantissimo lei ha parlato signora Ministro del 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 scioglimento dei consigli comunali no prima 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 ecco lo scioglimento proprio per parlare di strumenti il scioglimento dei consigli comunali sia a nord che al sud sono stati moltissimi non solo il numero ma alcuni sciolti anche più volte più volte il fatto che siano sciolti anche più volte vuol dire che lo strumento un po' funziona un po' non funziona o no però teniamo conto che cioè va modificato quello strumento no vorrei dire una cosa che qua è capitato sicuramente che ci siano stati comuni sciolti più volte così come ci sono stati ci sono stati comuni che dove tipo San Luca che ha avuto commissario prefettizio non so per quanti anni perché ogni volta che c'erano le elezioni non c'era mai nessuno che si presentava quindi ci sono i due aspetti della medaglia quindi è stato un commissario prefettizio e alla fine hanno dovuto pregare una persona per bene che era lì proprio pregando di presentarsi alle elezioni perché il commissario stava andando anni avanti allora proprio con riferimento ai comuni sciolti più volte parliamo di amministrazioni casomai diverse quindi vuol dire che la società civile che è da che deve essere esatto che deve essere toccata deve essere animata in collaborazione con una cultura della legalità che dovrebbe essere ancora più penetrante perché il comune sciolto vuol dire cointeressenze su che voglio dire gli aspetti degli appalti quando non si fa l'antimafia e quindi ci sono degli affidamenti diretti i servizi dei cimiteri le tasse ci sono tanti di quegli aspetti che poi sono ricorrenti negli scioglimenti il verde pubblico quindi sono questioni ricorrenti negli scioglimenti quindi evidentemente se ci sono delle infiltrazioni nei comuni che poi che poi nelle sindaco assessori consiglieri che comunque sono cambiati perché sono giunte diverse vuol dire che c'è comunque un problema nella società strutturale strutturale delle volte ci sono addirittura dei casi di sindaco che sono stati condannati e poi sono stati rieletti questo vorrei dire questo vorrei dire quando poi non c'era più la condanna perché poi tante volte va in appello allora questi aspetti vanno tenuti presenti perché quello che è tutto l'aspetto dei funzionari dei comuni quelli si può fare la sospensione per un certo periodo si può arrivare anche al licenziamento si può cambiare anche in carico ma non è quello perché la struttura poi risponde all'organo che dà gli ordini e quindi è là che va quindi io sono dell'idea che davvero è un problema più strutturale che non di cattivo funzionamento delle gestioni commissariali cioè non è lo strumento il problema esatto non è lo strumento perché ripeto parliamo di comuni che sono stati rinnovati completamente e non è servito a niente d'accordo procuratore infatti dottor Minoli in realtà ci sono dei comuni nei quali l'andrangheta o Cosa Nostra o la Comorra sono talmente forti e penetranti per cui ad ogni elezione il condizionamento finisce per determinare anche i soggetti che dovranno andare a condurre l'amministrazione ce ne sono state di comuni che sono stati sciolti anche tre volte anche tre volte il problema non è lo strumento infatti io chiedevo perché era citato il problema invece è quell'agglomerato sociale che evidentemente partorisce sempre soggetti legati ai mafiosi e quindi evidentemente l'infiltrazione o l'incondizionamento è tale da non consentire un voto libero rispetto a quello che fa si arrende ma qui no esattamente il problema probabilmente potrebbe essere in qualche modo superato accompagnando l'amministrazione con un controllo prefettizio e di questo si sta discutendo cioè dopo due scioglimenti ma è evidente che il territorio determina quei soggetti e allora bisogna controllare come andrà è inutile scioglierli perché comunque la democrazia deve continuare a svilupparsi è uno strumento che si però si però si accompagna e che li porta nelle scelte e lì entra la società civile anche di cui abbiamo parlato fino adesso esattamente perché è il loro è il loro compito anche cioè quello di produrre il rinnovamento delle persone no in qualche modo i prefetti possono fare una grande azione su questo aspetto questo volevo dire un'attività di monitoraggio perché è quello che noi facciamo quando poi ci rendiamo conto che casomai il comune sta per sciogliersi cioè da parte del prefetto per infiltrazioni la seconda volta e allora c'è un'attività che va fatta ecco ma la scuola la chiesa il terzo settore lo sport sembrano aver perso un po' la presa sulla società ce l'hanno naturalmente ce l'hanno però bisognerebbe in qualche modo ristimolarlo perché perché a parte il terzo settore che è in crescita e opera e dà il suo contributo insomma gli altri gli altri agenti normali nella società sembrano aver perso un po' lo slancio e il linguaggio per intervenire o sbaglio? Noi adesso abbiamo purtroppo attraversato un anno che lascerà il segno anche sulle nostre non solo su di noi ma parliamo delle giovani generazioni che prima utilizzavano gli oratori utilizzavano quindi che era un modo per trovarsi anche per andare soltanto a fare la partita di pallone ma era un modo per avere esatto per avere un pomeriggio un pomeriggio insieme ad altri ragazzi comunque con un occhio vigile lo sport è sempre un elemento lo sport è un momento di aggregazione fondamentale esattamente perché si crea quel gioco di squadra quindi ci si abitua a convivere con altri ma infatti le infiltrazioni mafiose nel calcio per esempio sono aumentate tantissimo perché si è capito il consenso sociale che arriva dall'essere padrone di una squadra per esempio questo è un fenomeno abbastanza recente ma abbastanza in crescita e così vorrei dire anche la scuola perché le lezioni a distanza io davvero mi auguro ma davvero che finiscano in fretta con tutta me stessa che spero che anche il presidente Draghi l'ha detto l'altro giorno che se anche riapre poco ma l'unica cosa che deve riaprire assolutamente è la scuola perché la scuola non è soltanto come un momento di insegnamento ma è il momento di formazione di aggregazione di seguire da parte anche degli insegnanti quelli che sono dei segnali di insofferenza di segnalarlo ai genitori cioè c'è tutto un mondo dietro quello che non è soltanto la lezione che si può fare al momento che direi che forse è importantissima è la cosa meno importante ma la mancanza della scuola ecco quello che manca non certo la lezione che viene fatta da distanza però vedo che oggi quello che manca fondamentalmente è tutto il resto che per me è fondamentale